L'arte è considerata uno specchio delle condizioni sociali, politiche ed economiche di un'epoca. Gli artisti hanno da sempre contribuito ad alimentare il dibattito attorno a determinati argomenti. Ma le loro opere possono rappresentare ancora uno stimolo per una riflessione sulle tematiche di oggi. I grandi artisti riescono ad offrire nuove prospettive sull'attualità? A questo tema è dedicata Arte tra passato e presente, una miniserie di ipertesti, il podcast della civiltà cattolica. In dieci episodi viaggieremo tra le opere di alcuni dei più grandi artisti della storia passata e contemporanea, cercando di capire come il loro contributo possa ispirare il nostro modo di vedere il mondo. Con Piero della Francesca parleremo di maternità, un tema quanto mai attuale. Edward Hopper ci aiuterà a riflettere sull'attesa e sulla solitudine. Con Luca Signorelli e i suoi affreschi parleremo di come l'arte abbia lasciato un segno nella genesi della psicanalisi. Con Joseph Beuys, invece, ci addentreremo nella sua visione dell'arte come strumento di guarigione. Attraverso le sue drammatiche rappresentazioni della peste, invece, Caravaggio ci aiuterà a riflettere sulla fragilità umana, mentre Mark Rothko, con la sua esplorazione della luce e del colore, ci insegnerà ad illuminare la nostra esistenza quotidiana. L'opera di Raffaello, che incarna un equilibrio tra bellezza classica e tensione intellettuale, verrà letta in parallelo con le tesi di un suo contemporaneo, Martin Lutero, mentre Bill Viola, con le sue opere video che esplorano le acque primordiali, ci farà riflettere sulla nostra origine e sull'immensità della vita. Leonardo da Vinci, invece, ci porterà a riflettere su una nuova dignità dell'uomo. Al tema del giudizio universale, rappresentato attraverso le epoche, infine, è dedicato l'ultimo episodio del podcast. Da Michelangelo a Giotto, fino ad artisti contemporanei quali Hearst e Warhol, analizzeremo un tema sul quale l'essere umano ha da sempre meditato, proiettandovi angosce, speranze, attese e desideri più profondi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.